che cos'è un junket che cos'è un'intervista come la si scrive come la si prepara come la si conduce come si riproduce il pensiero di qualcun altro in un testo scritto come si scrive una recensione cinematografica a quali cose fare attenzione come si giudica la fotografia come si giudica il racconto di un film tante cose che impareremo insieme nel corso di giornalismo cinematografico che curerò per la scuola di cinema immagina su zoom a partire dal 9 gennaio prossimo